Il bilancio 2015 approvato lo scorso 27 luglio con l'astensione dei sindaci di Francavilla e Pretoro è stato l'ultimo atto del triennio di Vincenzo Di Baldassarre alla guida dell'ACA. Di Baldassarre che ha firmato il concordato preventivo omologato dal Tribunale di Pescara e che assunse il ruolo di amministratore unico in un'azienda con un passivo di 100 milioni di euro ha già annunciato che non si ricandiderà a meno di clamorosi dietrofront dell'ultima ora. Dunque è iniziato il Totonomi per la successione alla guida dell'ente d'ambito idrico che serve molti comuni del Pescarese, del Chietino e del Teramano. Il profilo del nuovo amministratore dovrà essere, si legge nel bando, predisposto da Di Baldassarre di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale o qualificazione scientifica e culturale di alto livello. Nelle ultime ore sembrano farsi più insistenti le voci su una possibile candidatura del geometra Chietino Giampiero Leombroni già dirigente dei lavori pubblici al comune di Pescara quando il sindaco era l'attuale presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. Una candidatura questa che sarebbe caldeggiata dal Partito Democratico. A tenere banco però è anche lo scontro sull'assetto amministrativo dell'ACA. Antonio Luciani, sindaco di Francavilla porta avanti la battaglia per il ritorno al consiglio di amministrazione eliminando così la figura dell'amministratore unico e ridando potere decisionale ai comuni. L'ACA non funziona io parto da questo concetto oggi chi dice chi afferma che l'ACA sia un'azienda che funziona dice il falso perché come siamo messi a livello di depurazione a livello di acqua potabile lo vedono i cittadini lo vediamo tutti quindi è un'azienda che deve funzionare deve diventare un'eccellenza d'Abruzzo. A me non interessa non ha mai interessato la politica in questi giochini. Io dico solo che un'azienda che fattura all'incirca un volume d'affari di circa 50 e 60 milioni di euro non può essere lasciata nelle mani di un singolo soggetto che poi non risponde ai comuni soci. di un'azienda che fattura all'incirca un'azienda che fa di un'azienda che fa